Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Io penso che a volte veramente i giocatori non capiscono veramente quando c'è il bisogno di stare zitti e non parlare. Non è che se tu guadagni soldi, non è che se tu sei famoso, sei ricco, puoi dire quello che ti pare quando ti pare. Veramente io non ci posso credere. Dopo le parole di Joe Mario, in cui ha detto che non vuole assolutamente tornare, nonostante comunque il trattamento di favore che gli hanno fatto nel suo periodo negativo in Maia Nera Azzurra, adesso anche Schick. Adesso anche Schick si è messo a parlare. Dopo l'annata deludente che ha fatto, anche lui si permette di parlare, di giudicare, dire questo e dire quell'altro. E allora io adesso voglio partire questo video dicendo solo e esclusivamente questa frase. Schick, sei soltanto un grande professionista. Eh, lo so, lo so che tutti quanti si aspettavano che dicessi, eh, sei un grande pippone, un gran paraculo, eccetera, eccetera. So che il titolo che ho messo è un po' clickbait, lo ammetto, però se questo può servire a trasmettere a più persone il mio messaggio, visto che ho notato che nel video di ieri ci sono state molte visualizzazioni e molti commenti da parte vostra, allora penso che lo utilizzerò più spesso, visto che ormai su YouTube è l'unico modo per poter crescere con il proprio canale. Detto questo ragazzi, allora, le parole di Schick. Schick ha parlato qualche giorno fa e ha detto delle cose secondo me molto, molto giuste ed importanti, soprattutto se tu sei un giovane ragazzo che ancora ha tante cose da dimostrare. Ha un intervistato Schick di recente, ha parlato comunque lui di qualche giorno fa e ha detto queste esatte parole. Io ho tre settimane di ferie, ho tre settimane di vacanza, ma dopo la prima settimana voglio subito ritornare in campo ad allenarmi per ripartire al massimo per la prossima stagione. Veramente sì. Io voglio farti i complimenti perché queste sono le sacrosante parole che un giocatore dovrebbe dire alla fine di una stagione non particolarmente entusiasmante, soprattutto se tu sei diventato l'acquisto più costoso nella storia della tua squadra attuale. Queste sono parole importanti perché non erano necessarie secondo me, non è che lui era obbligato a tornare prima dalle vacanze per allenarsi, poteva tranquillamente farsi le sue vacanze come gli altri e poi tornare dopo tre settimane con calma e tranquillità. Invece questo atteggiamento positivo e volenteroso è secondo me importante proprio per fare meglio la prossima stagione e per dimostrare a tutti quanti che l'acquisto fatto non è stato sbagliato. Questa prima stagione in Maya Giallo-Rossa, lo sappiamo tutti, non è stata particolarmente felice. A parte due gol nel finale contro il Chievo e contro la Spal, non è riuscito praticamente quasi mai a mostrare il talento per il quale è stato acquistato. Ed è proprio per questo motivo che si è preso molto spesso delle critiche, anche in alcuni casi ingiuste, perché comunque parliamo di un giocatore ancora molto giovane, ha soltanto 22 anni, che ha avuto addosso di sé tutte le pressioni dell'essere appunto l'acquisto più costoso nella storia della Roma. E quindi per me era, non dico scontato, ma quasi che questa prima stagione non sarebbe stata così entusiasmante. Ma io, come sicuramente molti altri, apprezziamo sempre la forza di volontà e l'impegno. In questa stagione si sono viste poco, lo ammetto, però da queste parole io so che il giocatore ci metterà tutta la buona volontà per fare bene con la nostra Maya. Bisognerà soltanto lasciarlo lavorare in pace, lasciarlo allenare, senza fargli troppe critiche ad ogni minimo errore, lasciarlo giocare e divertirsi. Poi alla fine della prossima stagione, se non riuscirà ancora una volta a mostrare il suo talento, ci può stare criticarlo e dirgli quello che c'è da dirgli. Però adesso la cosa più importante, secondo me, è vedere, almeno da parte sua, l'impegno e la voglia di tornare subito in campo e di dimostrare di che pasta si è fatti. Questa, secondo me, è la cosa più importante di tutte, quantomeno per iniziare ad entrare bene nel cuore dei tifosi. Io apprezzo sempre tantissimo l'impegno messo da ogni giocatore. Ovviamente deve essere bilanciato anche da un contributo offensivo in campo, però già il fatto che lui voglia tornare subito in campo per dimostrare a tutti che questa stagione è stata solo di passaggio e che il reale Schick, ancora dobbiamo vederlo, è secondo me molto molto importante. E io in questo voglio fargli dei complimenti, perché è l'atteggiamento giusto che serve per migliorare e dimostrare il proprio valore. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti, voi che se ne pensate delle parole di Schick nell'ultima intervista di qualche giorno fa, ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque, forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao!